Le immagini di Diego Martelli dieri sera raccontano una storia uguale a tante altre che non si dovrebbe ripetere ma che nei fatti si ripresenta. Una casa abbandonata in via Andrea Doria a Pescara diventata rifugio per senza fissa dimora e che ha rischiato di trasformarsi in una trappola. Veniva utilizzata abusivamente da alcune persone senza tetto per scaldarsi e si presume che a causa di questo bracere acceso abbia poi innescato l'incendio distruggendo totalmente la palazzina. Erano in quattro al massimo racconto un residente ad usufruire della struttura per fortuna assenti ieri sera e che oggi si ritroveranno senza nemmeno quel riparo. Il fabbricato in questione era abbandonato almeno da 20 anni e noi abbiamo fatto anche dei sopralluoghi con la Polizia Municipale negli anni scorsi facendo anche diffide ai proprietari per la messa in sicurezza delle strutture e dei fabbricati. Ospiterete anche questi senza tetto che in qualche modo occupavano questa struttura? Ma noi ospitiamo tutti quelli che ce lo chiedono. Abbiamo la possibilità, abbiamo organizzato un servizio proprio per garantire loro nel periodo invernale la massima tranquillità, la massima pace però alcuni non vogliono avere assistenza preferiscono vivere così in maniera improvvisata anche se noi li abbiamo tutti quanti catalogati e li aiutiamo tutti quanti in qualche modo per come chiedono e per come vogliono essere aiutati. Un salottino di panni stesi e pezzi di materasso che fumano ancora in cima le travi calde che potrebbero cedere e causare il crollo del tetto. I figli del fuoco stanno predisponendo il verbale per vedere quelle che sono state le cause soprattutto le prescrizioni strutturali di un edificio privato perché quello è un edificio privato non appena saranno chiuse questo verbale sarà trasmesso molto probabilmente alla pubblica incolumità ufficio comunale che ovviamente potrà adottare dei provvedimenti e delle ordinanze di eventualmente di demolizione anche dell'immobile qualora ovviamente la struttura fosse pericolosa per la pubblica incolumità. In attesa delle sorti definitive del fabbricato l'amministrazione ribadisce i progetti di riqualificazione del PP2 che riguardano un'area che si estende su circa 50.000 metri quadrati una superficie che da troppi anni attende una definizione urbanistica e che vedrà presto la luce.